ciao rani e rasti e benvenuti a questo nuovo fantastico richardhtt e frafrog fanno cose io sono frafrog lui è richardhtt e facciamo cose e queste sono le cose che faremo oggi oggi faremo una sfida si è una sfida? no non è una sfida che cos'è? no è una cosa che hanno fatto un sacco di persone e allora abbiamo detto facciamela anche noi siiii come si chiama questa cosa? si chiama google myself google myself praticamente ci autocerchiamo su google come farebbero le persone famose oh 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 tanto però inutile cercare il nostro nome più wikipedia perchè tanto non ci stiamo su wikipedia se qualcuno ha anche la bella idea di creare una pagina su se stesso di wikipedia sappia che poi tanto wikipedia la cancella e lo sappiamo perchè ci abbiamo provato no non è vero prima cosa che farò ovviamente sarà aprire il mio browser aprendo il browser ci troviamo la schermata di google e quindi cominciamo allora la prima cosa che cerco è fraf frafrgo frafrgo neanche io so scrivere il mio nome frafog frafog frafrog facebook vabbè se mi volete cercare su facebook mi chiamo frafrog pure lì poi frafrog libro per chi non lo sapesse ho pubblicato un volume che è il fantastico pianeta che sta nel sistema solare ma nessuno lo sa perchè nessuno l'ho mai visto frafrog tavoletta grafica frafog hot cosa? frafrog hot e poi frafrog richard hdp ora cerchiamo frafrog seguite dalle lettere dell'alfabeto iniziamo dalla frafrog quanti anni hai che be frega per sapere se sono maggiorenne ooooooooo comunque ad ogni modo ho 21 anni appena compiuti poi frafrog ww quindi frafrog wikipedia tanto non mi trovate poi r frafrog richard frafrog razzle perchè ho fatto un video su razzle poi frafrog t frafrog tavoletta grafica tutorial twitter the dark side Tutti i miei account Frafrog U esce fuori avanti un altro E next up Vabbè allora next up è un concorso di Google Che ho vinto nel 2012 Avanti un altro è perché una volta ho picchiato Bonolis In diretto dalla mia stanza Il programma che ho fatto l'anno scorso Con I like TV Instagram quindi mi trovate su Instagram se mi cercate Ice bucket challenge dove lui mi butta l'acqua in testa E quasi anche il secchio Frafrog Orgia Frafrog allora pennelli Frafrog Photoshop pianeta pillola Piedi Io voglio capire perché le persone Devono cercare i miei piedi C'è un blog apriamo un'altra scheda Esce fuori il blog Pianeta donna I fantastici piedi di Francesca Presentini Con uno screenshot Dei miei piedi E un ode ai miei piedi Nell'home page Io non so se deve essere lusingata Disgustata Oltraggiata Salve a tutti sono Marco io ho 18 anni Mi ritrovo qui a scrivere con estremo piacere Con una sensazione di leggerezza mista a forte eccitazione Per i piedi di Francesca Andiamo veloci Andiamo avanti Shockdom speed drawing Steam shock Si gioco molto spesso su steam Shockdom è nella mia casa di gris Frafrog D Disegni disegno digitale Indiretta nella mia stanza L'abbiamo già detto vai F Fumetto Fidanzata Perché le persone sono Fidanzata Perché chi gliene frega Vabbè vogliono farci i cavoli di tuor Eh ho capito vabbè però Cioè Frafrog gatto Gatto per il video sui gatti Frafrog hot Ti prego cerca Frafrog hot Ma non sono io Francesca questa che cos'è Ma c'è scritto Valentina Hai cambiato nome Poi guardo Ah no Francesca Non è il mio culo Il tuo culo No Quello cos'è Eh sì È una paparazzata di me con Justin Bieber Ragazzi Vedete E questa sono io Con pochissime tette Ah no Allora non sono io No è Paolo Cellammare Attenzione Attenzione Frafrog L Libro Lucca Comics Live Sì Lucca Comics Mi trovate praticamente tutti gli anni a Lucca Comics V Vlog Vero nome Vero nome Mi chiamo Francesca Presentini Ah ah Ma quindi Assentini Ah ah No Presentini Un n Narici naso Che palle Narici naso Ragà Basta con le narici Basta Frafrog Minecraft Minecraft Poi vediamo con le lettere speciali Intervista a Frafrog Progettista grafico Creativa Videomaker E E E E E E poi sotto c'è il video di Riccardo Petrino Ma Richard Htt E Frafrog Stanno insieme Frafrog e Richard Htt Stanno insieme 20 like per la risposta Ma che cosa fate Oh Quando eri ancora un maschio Sono ancora un maschio Ecco perché chiedono il tuo nome Perché hanno questi dubbi Potrebbe essere anche Francesco Io una volta mi chiamavo Francesco Ma sul serio ti chiamavi Francesco? Mi facevo chiamare Francesco Io non ho parole Ho avuto una crisi di identità Quindi ragazzi Intanto abbiamo scoperto Delle cose su di me Che neanch'io sapevo Tipo le narici E poi ci sono foto di te hot Con Justin Bieber Senza tette Esatto Non è vero Non è vero Dai Non so mettere in giro Perché in realtà Francesco Tu non ce le hai le tette Dai Parliamoci sinceramente eh Che tu ti vedo Che ogni volta frame dopo frame Con Photoshop Si si fluidifico Col pennello no Grazie ragazzi per aver visto questo video Io vi ricordo che se Cliccate sulla faccia di Riccardo Potrete arrivare Primo o poi al video Dove anche Riccardo cerca se stesso su Google E scopre cose di lui Che mai nel mondo Primo o poi però Primo o poi Potreste perdervi nel tentativo Per il resto io vi ricordo Che qui ci sono tutti i miei contatti In descrizione Se volete seguirmi su Facebook Twitter Instagram E i posti belli dove io mi trovo Potete farlo Se vi è piaciuto questo video Ricordate di condividerlo E scriverci qua sotto Altre sfide che dobbiamo fare E noi eventualmente le scegliamo Le leggiamo Le scegliamo Le facciamo Le facciamo E le condividiamo E naturalmente Mettete mi piace Se volete altri di questi video Per il resto Grazie mille a tutti Ci vediamo al prossimo video Di Richard e Frafrog Fanno cose Ciao Vediamo con Frafrogbacio Che cosa vi esce fuori Quando andate a cercare queste cose Non c'è Aspetta Dai Riccardo Aspetta Aspetta Questa è Come si chiama Faggio Giorgia Faggi Come un so fan Sì lo so Che cosa vi esce fuori 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 Grazie.